In quel tempo la donna samaritana disse a Gesù Signore vedo che Tu sei un profeta I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte E voi dite che Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare Gesù le dice Credimi donna è giunto il momento In cui né su questo monte né in Gerusalemme Adorerete il Padre Voi adorate quel che non conoscete Noi adoriamo quel che conosciamo Perché la salvezza viene dai giudei Ma è giunto il momento ed è questo In cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità Perché il Padre è cercata di adoratori Dio è spirito e quelli che lo adorano Devono adorarlo in spirito e verità Parola del Signore Voi adorare il Padre in spirito e verità Alleluia, alleluia, alleluia Alleluia, alleluia, alleluia Il Padre cerca questi adoratori E siamo noi gli adoratori del Padre Quelli che egli cerca Quelli che pregano In spirito e verità Quelli che uniti Dall'unico Spirito E collocate nella verità Che Cristo e Gesù Bruciano l'incenso Della preghiera A Dio L'incenso della fede Della speranza e dell'amore Ogni volta che noi vediamo Quest'incenso salire Quest'incenso che Esce Come profumo gradito a Dio Quest'incenso che è la preghiera E la fede, la speranza e l'amore Che noi bruciamo Al Padre E gli rendiamo il culto Il culto vero Il culto del figlio suo Fratelli e sorelle Celebriamo la festa Nella dedicazione Del Tempio La Basilica del Laterano Ma questa Basilica del Laterano Capo Di tutte le Chiese Centro di tutte le Chiese Ci indica l'unità della Chiesa La Chiesa è una Cattolica Universale Che si manifesta Nelle diverse Chiese Particolari Ma la Chiesa è una E celebrando E celebrando La festa della Chiesa Madre Di tutto il mondo Noi celebriamo L'unità della Chiesa La cattolicità Della Chiesa E ricordiamo E ricordiamo che Nelle diverse Chiese Quelle particolari Quelle locali E anche quelle Così domestiche Perché dovunque Ci sono due o tre Che credono Nel nome di Gesù Lì c'è una piccola Chiesa Si manifesta Cristo Gesù Si manifesta Cioè la Chiesa Santa Universale Cioè la Chiesa è una Ma comparisce Là dove lo Spirito Manifesta il Cristo La presenza del Cristo Il grande ritorgo di Dio L'unico vero ritorgo di Dio Quando noi ci raduniamo O nelle grandi assemblee Quando noi ci raduniamo Nel Atalano O in San Pietro O nella cattedrale O in questo luogo E' sempre Cristo ritorgo Che radune i Suoi figli Radune il Suo corpo E dal Suo corpo Operto a Dio Fa emanare l'adorazione Il culto a Dio Suo padre Dobbiamo sentire Questa verità Dentro di noi Quando noi ci raduniamo Per pregare E' Cristo presente E' in mezzo a noi E' la preghiera Sua E' dentro di noi Diceva bene Agostino Riconoscio cristiano La voce di Cristo Nella voce Ed è dell'assemblea Che prega E' riconosci Tu O cristiano La voce tua In Cristo La preghiera tua In Cristo E' Cristo che prega in noi E noi preghiamo in Cristo Ed è da Cristo Dal corpo di Cristo E' da Cristo capo Che sana la preghiera a Dio Il culto vero Quello gradito al Signore E' allora che avviene L'adorazione vera Del padre Di Dio E' tutto l'universo Che adora Dio Riconosce Dio Ed è il Cristo Del Cristo totale Che si realizza Che attua il suo regno E lo offre al padre Un regno di adoratori Tutto l'universo adora In Cristo Gesù Il proprio creatore Io vorrei che fosse Dentro di noi Questo senso dell'unità Tutti formiamo un solo corpo Tutti formiamo un'unica Chiesa Una Chiesa orante Che è il Cristo Tempo In mezzo a noi Il Capo della Chiesa E vorrei che ciascuno di noi Fosse una Chiesa Una Chiesa dove si celebra Il culto di Dio Ecco perché il Signore Si esorta Alla purificazione del Tempio Ma in questo momento Vorrei fermarmi Non tanto alla Chiesa Come corpo di Cristo Non tanto alla Chiesa Che siamo noi Come luogo dove Cristo Vuole essere Sì adorato Ma dove vuole che Si adori il Padre Quanto Sulla prima lettura Sulla preghiera stessa Siamo in un momento Di preghiera Al Padre In Cristo Gesù Mediante lo Spirito Questa mattina Entra in questo Tempio Salomone Che è Cristo Signore Il Capo della Chiesa Ed è lui Che prega il Padre Prega Dio Come Capo della Chiesa Perché Dio Discende in questo luogo Dimori in questo luogo E ascolti in questo luogo La nostra preghiera Rimettiamo della bocca di Cristo Da preghiera Da preghiera di Solomone Signore Dio di Israele Non c'è altro Dio All'infuori di te Ecco il primo Motto Movimento Delorante E questo Riconoscere che Dio E Dio L'unico Signore E dobbiamo oggi Rivadire Questa grande verità Perché nella preghiera Noi esprimiamo La nostra fede Dicevano gli antichi L'ex orandi L'ex credenti Noi preghiamo quello Che crediamo Esprimiamo la nostra fede Nella preghiera Ed è sempre bene Appena ci mettiamo a pregare Noi che siamo in Cristo Gesù Noi che siamo animati Dallo Spirito Di professare La nostra fede E di tributare a Dio Quell'onore Che Gli ci deve Davanti alla miscredenza Del mondo Dobbiamo professare La nostra fede Oggi soprattutto Che il mondo Non crede più Non accetta Dio Perché al posto di Dio Mette a sé senso Oggi che si ribiuta Gesù Non vogliamo Che costui Regni sopra di noi Oggi che il mondo Regiuta il suo spirito Ha renegato il suo spirito Noi Corpo mistico di Cristo Noi Chiesa di Dio Luogo di salvezza Dobbiamo ripetere Dobbiamo ripetere In alto Al proprio creatore E noi tutti Dobbiamo elevare Le creature E riordinarle Al creatore Perché l'ordine Universale È stato Sovvertito E dobbiamo E dobbiamo noi Restaurarlo In Cristo Gesù E allora La prima cosa Che dobbiamo Ripetere Quando ci mettiamo A pregare È questo O Dio O Dio O Dio Tu sei l'unico Tu sei il Signore Del cielo e della terra Noi siamo Tua creature E prostrarci In adorazione Davanti al Signore Non domandare Ma prima di domandare Professare Che Dio È il Signore Che noi siamo Tua creature Che il mondo Gli appartiene Questa preghiera Deve essere Lanciata E ascoltata Da tutti Perché tutti Riconoscono Che Dio È l'unico Vero Dio E non c'è altro Dio All'infuori Di Lui E dobbiamo Provinciare Questa fede Davanti a un mondo Incredulo Davanti a un mondo Bestemmiatore Davanti a un mondo Che ha dimenticato Il proprio padre Che ha dimenticato La fonte Da cui è Prevenuta la vita O Signore Dio di Israele Non c'è un Dio Come te Tu sei Lassù nei cieli Tu sei grande Tu sei immenso Però tu hai scelto Questo luogo I cieli Non ti possono contenere Tu sei L'immenso Della tua presenza È pieno L'universo Il quale Se esiste Esiste Perché ci sei tu Tu sostieni Nel tuo Cristo Tutta la creazione Ma tu Scegli alcuni luoghi In cui Vuoi essere Onorato Scegli alcuni luoghi In cui L'assemblea Dei tuoi figli Deve radonarsi Per lodarsi E benedirsi Ecco allora che Tu che mantieni L'alleanza Tu manifesti La tua misericordia In questo luogo Che tu hai eretto In questo luogo Dove Tu Hai posto La tua sede Perché il popolo Ti raduni E innascere Preghiera a te Fratelli e sorelle Noi non sappiamo I disegni di Dio Perché ci sono nascosti Ma ci sono dei luoghi Particolari Che noi chiamiamo Chiese Basilica Tempio Cappella Come volete Con tanti e tanti nomi Ma soprattutto Tempio Cioè Separato Luogo separato Luogo consacrato Dove Dio Vuole essere onorato Dove vuole che La gente Ti raduna E preghi Perché quel luogo È un luogo Benedetto Noi non sappiamo Perché il Signore Ha voluto Questo luogo Ma una cosa è certa Che il Signore Abita qui Che il Signore È qui È vero che I veri adoratori Adoreranno Dio In spirito e verità Dovunque si trovino Ma è pur vero Che Dio Sceglie Dei luoghi Particolari Dove questo popolo In cammino Si possa Radunare E far alzare A Dio La propria Preghiera Non sappiamo I disegni Di Dio Il perché Il Signore Sceglie Dei luoghi Possiamo Intuire Ogni volta Che io Penso Alla preghiera Che si svolge In questo luogo Penso Alla Aia di Arauna Dove l'angelo Terminatore Falciava Le vite E l'angelo Ebbe l'ordine Dio Fermati E in quel luogo Venne retto Il Tempio Di Dio Noi non sappiamo Ma adoriamo L'Onnipotente E in questo luogo Da Lui scelto Noi vogliamo Pregare Il Signore Perché Lo preghiamo Qui segue La preghiera Di Solomone Ascolta Il grido E la preghiera Che noi I Tuoi servi Ti rivolgiamo Signore Perdona Il tuo popolo Perdona I nostri Peccati Ecco La prima Preghiera Ci rivolgiamo A Dio In alto E predichiamo Che Lui È l'unico Che Lui È il misericordioso Che Lui È il nostro Padre Ma poi Rivolgiamo Lo sguardo a noi Ai nostri peccati E diciamo Signore Tutti Siamo peccatori Tu sei il Santo Noi siamo i peccatori Siamo Sì la Tua Chiesa Ma una Chiesa Che ci rinnova Una Chiesa Che ti purifica Siamo peccatori Davanti a Te Perdoni Il nostro peccato Nel sangue Del tuo figlio Mediante il tuo spirito Purifica Ciò Signore Perdoni i peccati Di questo popolo Fratelli e sorelle Anche questa mattina Dobbiamo rinnovare Questa preghiera a Dio Riconosciamo Che Dio è Dio Riconosciamo Che Dio Ci ha radunati qui Ma riconosciamo Il nostro peccato Fratelli e sorelle Ecco la grande Peresia nel tempo La prima grande Peresia È la negazione Di Dio Al posto di Dio Ci siamo messi Noi L'uomo Che deve affermarsi Voglio o non voglio Questo Dio E l'altro Grande Errore È che l'uomo Nega di essere Un peccatore Ma dobbiamo affermare Che noi siamo peccatori Che noi facciamo il male E questo male Offende Dio Sconquasto l'uomo Metto un disordine Nell'universo Questo male È il grande male Dell'umanità Il peccato È nella luce di Dio Quando noi preghiamo Nella luce Dell'unico Dio Dobbiamo vedere Le tenebre Che stanno dentro di noi O attorno a noi Le tenebre del peccato E dire Padre della luce Perdona il nostro peccato Te lo domandiamo Per Cristo Nostro Signore Che ti è immolato Per i nostri peccati Te lo chiediamo Per Lui Che è stato crocivisto Sulla croce Per noi Per distruggere il peccato del mondo Il mio peccato E il peccato Di tutti i nostri fratelli Fratelli e sorelle Riconosciamo Riconosciamo Questa seconda Grande verità Che ci suggerisce La fede E che Che noi Costatiamo Con la nostra Esperienza Il peccato Causa Causa di tutti i mali Del mondo Causa di tutti gli errori Perché la mente Viene offuscata La volontà Viene indemolita Perché il corpo Viene intaccato L'uomo Nesse tre componenti Che stanno Alla base Della vera Antropologia Quella antica Quella cristiana Quella non ancora Impicciata Della filosofia Spirito Anima E corpo L'uomo In questi tre Costitutivi Viene attaccato Dal male Lo spirito Soffre Soffre L'anima L'artiche Soffre anche Il corpo Tutte le malattie Devono essere Riconnesse Al peccato Al peccato Collettivo E al peccato Individuale Al peccato Originale Al peccato Attuale Il grande Nostro nemico È il peccato Ed è per questo Che dobbiamo Chiedere perdono In Cristo Gesù Che si è offerto Per i nostri peccati Chiedere perdono Padre Per il peccato Perdoni il nostro peccato Perdoni il peccato Del tuo popolo Quando verranno Come nella peccato Come nella presidia Così nel corpo E così Nello spirito Il grande ostacolo Viene tolto Quando noi preghiamo Per la remissione Dei peccati Perché c'è Gesù Figlia di Dio E allora Il padre Il padre si sorride Il padre è pronto A darci Tutte quelle Che noi chiediamo Perché Egli è veramente Padre Ma togliamo Questo ostacolo Fratello Sorella Io parlo a te C'è il peccato Sì nel mondo Ma in questo momento Anche nel tuo cuore C'è il peccato E l'ostacolo maggiore Alla grazia di Dio Fa penetrare La luce del verbo Dentro di te Fa penetrare L'amore dello spirito Dentro di te Per essere Un vero adoratore Del padre Perché Cerchi questi adoratori Quelli che L'adorano In spirito E verità Ma rimuovi L'ostacolo Sciogli Il tuo peccato Nel dolore Nella luce di Dio Nell'amore di Dio Sciogli il tuo peccato In questo momento Tu uomo Tu donna Tu giovane Tu ragazza Sciogli il tuo peccato Sciogli il tuo peccato Dentro il tuo cuore Mettelo fuori Fa entrare La grazia di Dio Il fuoco di Dio Ecco L'angelo del Signore Entra Nel tuo cuore L'angelo Dall'alleanza E gli viene come La discive Del lavandaio Per lavare Come il fuoco Del fonditore Per purificare Il tuo cuore Perché La tua Ablazione Si amonda E il tuo sacrificio E il tuo sacrificio Ti è gradinto a Dio Allora Tu diventerai Un sacrificio a Dio Tradito Allora la tua vita Sarà bella e gradita Al Signore Allora Li fiorirà La tua mente Il tuo cuore Il tuo corpo Per quella Grazia divina Che scende dentro Di te Sio Padre del Cielo In questo momento Noi tutti Raccolti In questo luogo Ti supplichiamo In Cristo Gesù Mediante Il tuo Spirito Ascolta La supplica Del tuo Servo E di tutto Israele Qui radonato Di questo Popolo Noi stiamo pregando In questo luogo Tu dal luogo santo Dove chiedi Ascolta La preghiera Del tuo popolo Dalla tua dimora Dal cielo Ascolta O Padre Il cielo è qui Tu sei qui Ascolta La nostra preghiera Ed esaurisci Quanto noi chiediamo E allora Che noi possiamo chiedere Deglissimamente A Dio Quelle che E Dio Delle meraviglie Di Dio Mi abbiamo visti Ancora vi vedremo Perché Dio è qui Dio è con chi prega Dio è in questo luogo Che Egli ha scelto Fratelli e sorelle Questa è la parola Che il Signore Oggi ci consegna Questa parola Per noi Sì è fisito E vita Amen Che la purificazione Diventerà un luogo di grazia Questo luogo in cui Prendiamo il nostro recato Diventerà il luogo Della manifestazione Della gloria di Dio Delle meraviglie di Dio Li abbiamo visti Ancora li vedremo Perché Dio è qui Dio è con chi prega Dio è in questo luogo Che Egli ha scelto Fratelli e sorelle Questa è la parola Che il Signore Oggi ci consegna Questa parola Per noi Sì è fisito E vita Amen Leggiamo una parola Che il Signore Ci ha consegnato Tutti siamo peccatori Nessuno Dica che non è peccatore La verità è questa Non diciamo E' menzogna Perché Dio Che è verità Non è che noi Facciamo la verità Anche che Noi siamo stati Così Perdonati Del Signore Anche se la grazia Del Signore Domina dentro Di noi Il peccato Può cogliersi Sempre Ma quando ci coglie Il peccato Abbiamo Gesù Cristo Giusto Che è qui In me Da noi Che vive nel corpo Mistico A cui noi apparteniamo Ed è lui Che interpella Dio Per il nostro peccato Il testo E' quello di Giovanni E' Gesù Che interpella Dio Per i nostri peccati E Il perdono di Dio Scende Perché Gesù Prega per noi E la giustizia Di Gesù Si affonda Sì di noi E allora potremo Comprendere Il grande Precetto Dell'amore Perché Il peccato Che impedisce La comunione La comunione Di luce Divina Dentro di noi Perché Luce e amore Diventano La stessa cosa Questo è il messaggio Che abbiamo ricevuto Che Dio è luce E in lui Non ci sono tenebre Se camminiamo Nelle tenebre Noi Non Chiamano la luce E mentiamo E non operiamo La carità E la verità Se avete E invece Camminiamo Nella luce Come lui E nella luce Noi siamo In comunione Gli uni con gli altri E il sangue Di Gesù Il suo figlio Ci purifica Da ogni peccato Ecco Camminare Nella luce E camminare Nell'amore Ed entrare In comunione E quando Siamo in comunione Gli uni con gli altri Quando ci apparteniamo Al corpo Vivo di Cristo Siccome In questo corpo Vivo di Cristo Domina la comunione E nella comunione C'è Dio Il nostro peccato Non può esistere Con Dio Là dove c'è comunione Non c'è peccato Questa È la grande verità Questa verità Deve essere Radicata in noi Dove c'è la comunione Non c'è peccato Vuoi uscire dal peccato Entra in comunione Con Dio E con i tuoi fratelli E starei giusto Della scioccia di Dio Proclamiamo la nostra fede Crede in un solo Dio Padre Mi potente Creatore Del cielo e della terra Di tutte le cose Visibili e invisibili Crede in un solo Signore Gesù Cristo Unigenico Dio 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 Nato dal Padre Prima di tutti i secoli Dio da Dio Luce da luce Dio vero Da giù E meno Generato Non creato Della nascenza sostanza Del Padre Per mezzo di Lui Tutte le cose Sono state create Per noi uomini Per la nostra salvezza E per l'opera Dello Spirito Santo Che è incarnato Nel senso della Messia E si è fatto l'uomo Fu crocifisso Per noi Sottoporti Morì E il suo corpo E i cento giorni Sicipate Secondo Delle scritture E salite Allo cielo Siede Alla destra Nel mare E di noi E anche la gloria Per giudicare Le vivi e i morti E il suo regno Nel raffine Credo Allo Stito Santo Che è su noi Dà la vita E procedo Allo Padre Allo Stiglio E con il Padre E il Stiglio Adorato E glorificato Che ha parlato Per mezzo Di progetti Credo Alla Chiesa Una sancia Cattolica Ostroica E' giunto un messaggio Ricostruite Il mio santo Tempio Ed io Abiterò In mezzo a voi Come potete Pregare Se il vostro Tempio Non è ricostruito Come potete Chiedere Di essere Esauriti Se non siete In comunione Gli uni Con gli altri Ricostruite Il mio santo Tempio Ed entrato In comunione Gli uni Con gli altri Ed io Sarò In mezzo a voi Ed io Salverò La vostra Preghiera Grazie Ecco vogliamo Signore Invocare il suo nome Adesso Iniziamo la preghiera Invocando però Lo spirito del Signore Che viene a lui Perché la preghiera Che viene offerta Al Signore Sia gradita a lui O spirito di luce O spirito di amore Scende su di noi E il momento in cui offriamo a te E al Padre La nostra preghiera Sia gradita a lui Vivo Divino Vivo Divino Vivo Divino Vivo Divino Viva Vivo Essen Vivo Divino Vivo Divino Vivo Of Spirito, scendi su di loro. 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 scendi su di loro. Spirito, scendi su di loro. Spirito, scendi su di loro. scendi su di loro. Spirito, scendi su di loro. scendi su di loro. e trascurano il bene del tuo popolo. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. A presto, Signore. Ti preghiamo per quelli che amministrano la cosa pubblica, per i nostri amministratori civili e giudiziari. Signore, ti preghiamo di tutti quelli i quali sono preposti da noi e da te alla cosa pubblica in città. Siano persone che amministrano bene la cosa pubblica, l'interesse pubblico per il bene dei cittadini. Ma ti preghiamo che coloro che amministrano la giustizia camminino nella verità e nella carità, che facciano la verità e nella carità e che tutto facciano per la gloria tua. Nomeno, per scopi diversi, perché inquilerebbero l'amministrazione della giustizia e attirerebbero maggiori castigli su di noi. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo per gli oppressi, per i poveri, per i diseredati, per quelli che sono in difficoltà. Ti preghiamo per i carcerati, quelli che le inviscano nel carcere. rei o innocenti per tutti, perché in tutti c'è la tua immagine, perché in tutti c'è l'uomo da redimere. Ti preghiamo per i nostri carcerati, per i nostri perseguitati, per i nostri indagati, per chi abbia nel comporto della tua grazia. La luce tua è perché siano comportati da te nell'ora brutta che essi attraversano. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. E ti preghiamo per tutti gli ammalati, per tutti gli infermi più presenti. Tu stai guarendo tante persone e già ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché stai toccando un uomo di quarant'anni che è fecato e ingrossato. Ti ringraziamo, Signore, perché tu stai facendo cadere il velo dagli occhi di una persona. Stai guarendo tante gambe questa mattina. Stai guarendo tante arti, soprattutto gambe di persone. Ti ringraziamo per quello che tu stai operando, per tante persone, uomini e donne, perché stai toccando il cuore di tante persone. e toccarai ancora e guanerai ancora durante questa attendea. Ma già fin da questo momento noi ti ringraziamo e ti benediciamo. adesso seguono le preghiere. Sì, Signore. persone che hanno deposto le gestine del loro supplicare e ti ringraziamo perché a una persona che non si può reggere in piedi e di cui i medici non sanno dire il motivo tu dici questa parola e lo gustite le mangiacche con le sorridate e ginocce vacillanti. Il vostro Dio viene a salvarvi, non smorreste di cuore. E poi il Signore tocca una persona, un uomo nell'albero respiratorio. Non sappiamo cosa voglia dire, ma è l'albero respiratorio che viene toccato dal Signore e la persona guarisce. Tu che piangi, sei una donna vestita di nero e sei incontrolabile. In questo momento il Signore ti tocca e fa udita la tua supplica. E poi a tre persone il Signore dice siete andate dai maghi. In questo momento io tocco il vostro cuore. Tutta tre vi sentite sporche? Confessatevi, io vi perdono, ma non peccate più. Io sono il Signore, il Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuore di me. E adesso ascoltiamo una breve testimonianza, le altre testimonianze le faremo dopo. Ascoltiamo questa testimonianza che ci viene dalla giunta di Santo Stefano su cui noi preghiamo perché viene da lontano e è venuto con Pullman qui e sono qui presenti. è un giovane che era affetto da megacolon. Che significa? Praticamente in un punto del suo colon c'era un'enorme dilatazione per cui in quel posto risiedevano abbondantemente per lungo tempo gas e feglie. tant'è che si era tant'è che era peggiorata di molto questa situazione ed è arrivato al punto di essere in peritonite e poi in una sepse veramente grave. Ma il Signore ha ascoltato la priera di questo ragazzo e dei suoi familiari ed è qua per dire il suo grazie al Signore io lo ringrazio per tutto quello che ha fatto per me perché so che ero grave e non c'era prefatta queste di noi l'ho pregato sempre e per darvi un punto di riferimento l'intervento è durato sette ore e qua c'è Natale che può testimoniare che il chirurgo uscendo dopo queste ore di operazione ha allargato le mani dicendo ve lo diranno dopo che hanno operato a Nino il dottore che l'ha operato l'incontro nel reale e ho detto dottore come è andato a finire mi ha allargato le mani e mi ha detto solo Dio lo può aiutare solo Gesù e Gesù veramente se l'ha aiutato è qua con noi solo il miracolo di Gesù grazie grazie per te è potente il Signore è potente il Signore è potente il Signore è potente il Signore proprio da ringraziare il Signore quando l'abbiamo visitato di lo stivare l'ha spacciato poi è peggiorato ancora ma il Signore ha messo la sua mano e l'ha guarito ed eccolo qua il Signore ha saudito la preghiera costante del popolo il Signore ha tratto dalla fossa ed è qui vivo e vegeto grazie si doveva trovare qua oggi un ragazzo Mario Foti non so se è qua non so se è in sala perché noi siamo arrivati da Santo Stefano e lui mi ha detto se posso io vengo si vede che non è tutto venire perché è realizzato in servizio faccio io in breve questa testimonianza lui porterà i documenti e la testimonianza scritta dopo a padre Matteo circa due anni fa in periodo così prima periodo di maggio sono venuto a cercarmi nel mio negozio questo ragazzo amici di questo ragazzo che c'era questo loro amico finanziere che avevano trovato a lui un tumore al polmone lungo circa 12 cm mentre io non ne capisco molto di queste cose insomma era molto grave era gravissimo e allora siccome lui sa che noi siamo vicini anche a padre Matteo dice come possiamo fare ho telefonato dice c'è la preghiera di mattina e sabato andate a pregare il signore noi preghiamo pure qua speriamo bene lui aveva anche un fratello medico che diceva la cosa è molto grave e gravissimo comunque sono venuti a pregare qua e lui poi è partito per Milano ha iniziato a fare terapia i medici stupefatti padre Matteo l'aveva incoraggiato dicendo non ti preoccupare che il signore ti aiuterà stai tranquillo l'aveva incoraggiato facendo questa terapia i medici hanno visto subito una diminuzione notevolissima dice qua c'è una cosa incredibile guarda c'è una diminuzione notevolissima c'è qualche cosa di strano questa cosa si sta ridimensionando piano 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 si ridimensionava poi addirittura i medici avevano detto ora vediamo se possiamo intervenire visto che è più rimpicciolita anche è difficile trovare a padre Matteo a telefono una cosa quasi impossibile perché non risponde impegnato ho telefonato da casa mia perché avevano detto che fa lo facciamo operare non lo facciamo operare ho telefonato a padre Matteo per cui lo caso ha risposto proprio lui e gli ho chiesto padre Matteo lo sa questo ragazzo che è venuto da lei ha detto volevano sapere se si deve operare e cosa le devo dire dice vada da questi mezzi stia tranquillo ma comunque lui mi ha detto dice troveranno una cosa sicca una cosusta troveranno non lo opereranno mi diceva e di fatto arrivando là neanche l'hanno operato perché facendo degli esami questa cosa era rimpicciolita completamente di fatto adesso lui sta bene ha ripreso servizio e quindi l'ho del Signore fa che le parole di questa preghiera penetrino dentro di noi fa che noi siamo la preghiesa la preghiesa fondata nel pentimento dei nostri peccati e nell'amore di Dio che trionfa una chiesa una chiesa unita una chiesa che crede che spede che ama ognuno di voi ci ha detto il Signore attraverso il fratello ognuno di voi è la mia chiesa siate la mia chiesa e il grido di Gesù sofferente sulla croce ma è anche il grido di Gesù risolto siete la mia chiesa siate la mia chiesa luogo di salvezza vescillo per i popoli e per chiunque guarda e vuole essere salvato amén preghiamo o Dio sorgente di ogni benedizione donato popolo santo i frutti della gioia e della pace perché il mistero del Tempio che oggi abbiamo celebrato divenga per noi spirito e vita per Cristo nostro Signore amén il Signore sia con voi e con il tuo spirito pronunziamo la benedizione solenne che connessa con questa celebrazione Dio che oggi vi ha riuniti per l'anniversario della dedicazione di questo del Tempio del Signore vi colmi della sua grazia e della sua pace amén Cristo vi edifici come pietre vive del suo Tempio spirituale amén lo Spirito di Dio abiti nei vostri cuori e riunisca la comunione gloriosa dei santi amén la benedizione la dà Gesù stesso alla fine della precessione amén 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 Grazie a tutti